un cordiale saluto da federico grasso e ben ritrovati con il meteo di arpal quest'oggi sulla liguria cielo coperto con nubi basse e compatte sul centro e sul levante dove saranno possibili più vicini nel corso del pomeriggio nubi irregolari invece a ponente con spazi più soleggiati i venti in prevalenza sono deboli da sud est da nord est la sera sull'imperiese il mar e da poco mosso a mosso le temperature massime rialzo con valori interni compresi tra 10 e 12 gradi lungo la costa tra 11 e 17 per domani sabato 4 gennaio il cielo sarà sereno pressoché ovunque salvo locali foschi e costieri in dissolvimento nelle prime ore del mattino i venti sono in rinforzo da nord fino a moderati con raffiche forti in particolare sul centro della regione deboli e variabili invece al mattino a levante il mare mosso in calo fino a poco mosso la sera minime in costa sono comprese tra 8 e 12 gradi nell'entroterra tra 1 e 4 massime interne tra 13 e 14 gradi lungo la costa tra 14 e 19 domenica 5 gennaio ancora cielo sereno su tutta la regione i venti sono tra deboli moderati dai quadranti settentrionali con locali rinforzi al mattino sulla parte centrale della liguria il mare poco mosso temperature stazionarie con valori minimi in costa che variano tra i 7 e gli 11 gradi nell'interno tra 0 e 1 massime nell'entroterra intorno ai 12 gradi lungo la costa tra 15 e 17 ricordandovi che ogni dettaglio sul meteo in liguria è consultabile sul sito www.arpal.gov.it sulla pagina facebook dell'agenzia sul profilo instagram di arpal io vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana a risentirci